buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video sullo sviluppo delle soft skills in questi pochi minuti ci concentreremo sul modo in cui è opportuno affrontare le situazioni di negoziazione quale tipo di atteggiamento può portare i maggiori vantaggi quando ci troviamo all'interno di un sistema complesso come potrebbe essere un'azienda o qualunque altro tipo di organizzazione prima di cominciare vi ricordo di mettere like al video e per vedere tutti i contenuti che vi proponiamo di iscrivervi al nostro canale inoltre se avete commenti da fare sono i benvenuti noi li leggiamo tutti e se necessario vi rispondiamo tornando al nostro tema della negoziazione partiamo dal fatto che molti di noi sono abituati a pensare alla vita come una competizione perché spesso accade di essere in concorrenza l'uno con l'altro per accapararsi risorse attenzione o potere ossia elementi la cui disponibilità è limitata in questa competizione di norma si applica il paradigma mentale che il matematico john von neumann definì dei giochi a somma zero ossia giochi nei quali il beneficio per uno dei giocatori corrisponde alla perdita per uno o più avversari per esempio molti ritengono che in una trattativa soltanto uno dei due negoziatori alla fine avrà fatto un affare questo però non è vero contro questo pregiudizio infatti è necessario andare sempre alla teoria dei giochi per evidenziare che la nostra vita sembra più simile a un altro tipo di gioco in questo tipo di gioco gli interessi dei giocatori non sono in opposizione tra loro perché esiste una comunanza di interessi che può far sì che aumentino i benefici per tutti i partecipanti analizziamone un curioso esempio i conidi sono molluschi gasteropodi ossia lumachine presenti in tutti i mari tropicali e temperati del mondo e comuni soprattutto nell'indo pacifico in passato i loro gusci per la bellezza dei loro disegni erano diventati oggetti molto ambiti dai collezionisti pare che nel 1796 il quadro di johannes fermier donna in azzurro che legge una lettera sia stato venduto a 40 fiorini olandesi ma che dello stesso anno il guscio di una di queste conchiglie della dimensione di 5 centimetri sia stato battuto all'asta per ben 273 fiorini oltre sei volte il valore del dipinto del maestro fiammingo è facile capire la ragione per cui nel secolo scorso la pesca di queste lumachine fosse diventata un'attività interessante per gli abitanti delle isole dei mari tropicali e anche giustamente remunerativa perché nascondeva un rischio importante il piccolo mollusco nascosto dalla conchiglia è infatti dotato di un arpione con il quale caccia le sue prede inoculando in esse un veleno potentissimo che risulta estremamente pericoloso quasi sempre letale anche per l'uomo e per il quale non esiste antidoto in epoca recente lo studio della composizione di questo veleno ha portato a importanti scoperte tra le tossine che lo compongono ne sono state infatti individuate alcune dalle caratteristiche sorprendenti un analgesico molto più potente della morfina è privo di effetti collaterali è una super insulina capace di causare un immediato e drastico abbassamento del livello degli zuccheri nel sangue che potrebbe portare imprevedibili benefici ai malati di diabete grazie a queste scoperte il valore dei conidi non risiede più ora nella conchiglia ma nel mollusco che la abita ed è immensamente superiore a prima per questo lo stesso identico gesto di raccogliere una conchiglia può generare oggi un valore immensamente superiore a cento anni fa e questo solo in virtù della disponibilità di nuova conoscenza ed è esattamente questo il motore dell'evoluzione dell'umanità dal primo uomo che ha appreso come conservare il fuoco a quello che ha usato una ruota ogni nuova conoscenza si è diffusa tra gli uomini permettendo alla specie di potenziare la capacità di creazione di valore insita in ogni singolo gesto oggi dopo alcune migliaia di anni grazie alla diffusione delle conoscenze lavoriamo insieme per costruire case coltivare cibo e prenderci cura dei nostri figli insieme creiamo arte scriviamo musica e sviluppiamo nuove tecnologie la prossima volta che ci troveremo a negoziare con qualcuno ricordiamoci dunque che non siamo in una guerra ma molto probabilmente in un gioco cooperativo e il nostro obiettivo non è quello di superare il nemico ma quello di trovare un modo per far sì che tutti vincano grazie a tutti